Bella ragazzi, qua è Ghiotto, scusate un attimo la location del video è un po' particolare, sono anche qua col braccio che tengo il cellulare appunto perché sono nel mio hotel qua a Roma, poi domani mattina partirò, tornerò su, da me anche nevicata, a Roma comunque il tempo non è assolutamente né mite né bello, oggi siamo stati al torneo di calcio dei noantri, bellissima iniziativa, bella esperienza, ma mi sono ovviamente guardato Juventus Malmo. Adesso uscirò e andrò a vedermi Atalanta-Villa Real da qualche parte, poi nel caso uscirà il video, ecco mi sono messo qua perché purtroppo le luci qua non sono ideali, non mi sono portato delle luci da casa perché vabbè non era il caso, oggi è uscito anche un video con Giovanni Stramacci, comunque ho recuperato. Allora, Juve-Malmo, ragazzi, è clamoroso perché la Juve passa prima nel girone e questo secondo me è molto importante in un girone che a prescindere, io lo dissi, era un girone facile, tra virgolette, perché quando tu hai una squadra forte nel girone, che era il Chelsea, non la più forte, campioni d'Europa, che però non è stratosferica, io l'ho sempre detto anche dopo Chelsea-Juve 4-0, il Chelsea non è il Bayern, non il City, infatti si è evidenziato, forse neanche era il Madrid come status europeo. E poi quando hai due squadre veramente scarse, il Malmo, ragazzi, era capricciante, io di quello che ho visto giocare la peggiore, peggio anche del Bruges, peggio di tante altre, lo Zenit che lascia il tempo che trova. Però vabbè, oggi hanno pareggiato 3-3 a San Pietroburgo, a Mosca, tra l'altro anche, diciamo, tempo a Torino anche, diciamo, abbastanza russo, ecco, neve, freddo, eccetera, e quindi era un girone che cosa succede? Perché tu hai una squadra forte, due, tra virgolette, materasso, e quindi il secondo posto era praticamente la Juve doveva proprio suicidarsi, no, per non passare il girone. Però passarlo da primi non era scontato, quindi complimenti comunque alla banda di Max Allega, che nonostante le difficoltà, un gioco, anche stasera, molto stentato, molto difficoltoso, però evidentemente questo Chelsea, non voglio dire che è stato un caso, ci mancherebbe, però l'anno scorso ha azzeccato la stagione, anche grazie al cambio in corso. Quest'anno non sarà così. Cioè, il Chelsea per me non è, lo ribadisco, una squadra che può ripetere la vittoria della Champions, lo sta dimostrando, nonostante sicuramente Aldoggi sia più forte della Juventus. Quindi passare come primi è importante perché ti va a evitare, teoricamente, i Bayern, i Liverpool, il Real Madrid. Quindi, io, è una provocazione che faccio un po' da qualche mese. Secondo me la Juventus quest'anno farà meglio in Champions che in Serie A, perché in Champions non hai pressioni. Cioè, già solo che tu dovessi passare le ottavi, hai già fatto fin troppo, secondo me, per come gioca la Juve. Perché poi anche oggi, ragazzi, diciamo, beh, ho visto The Winter, meno male che l'ha messo, però non dobbiamo meravigliarci, ragazzi. Cioè, noi in Italia, qual è il nostro problema? Che noi ancora ci meravigliamo quando i giovani, che poi non ha 16 anni, giocano. E quando non ci meraviglieremo più, allora non ci sorprenderemo, allora vuol dire che avevamo fatto quel passo in avanti. È chiaro, perché avete visto ieri i ragazzini del Liverpool, o i ragazzini del Barcellona contro l'Inter. Eh, ma no perché sono più bravi e gli altri, ma perché evidentemente li fanno giocare, ci sono settori giovanili più, con infrastrutture più all'avanguardia. E' tutto un discorso che è ampissimo da fare. Però poi, tu puoi avere anche tutte le infrastrutture, i giovani bravi, ma se poi l'allenatore che hai non li butta in campo, non li dà fiducia, eh, sono cazzi, ragazzi. È chiaro, quindi The Winter, bene, che ha giocato, ha fatto una discreta partita, poi sono entrati chi è Mirelli, Miretti, scusatemi, adesso non ricordo il giocatore, e anche da Graca, però gli avrei concesso qualche minutino in più. Per il resto, ecco, una Juve, una partita, ha fatto una partita discreta, ovvio l'avversario è veramente scabroso, cioè anche il portiere non riusciva a trattenere un pallone, è sbloccato da questo gol di Kane, che è stato poi l'unico gol, diciamo, della partita, una vittoria di cortomuso, ma che di cortomuso non è, perché la Juve, diciamo, ha avuto diverse altre occasioni, se li sono mangiati, perché poi Kane si è mangiato, beh, due no, ma un gol clamoroso, cioè Kane è obrobrioso. Io l'ho sempre detto, anche quando, vi ricordate, quando segnava nella Juve di Allegri, no, col Milan, col Cagliari, segnò, ma tecnicamente è proprio scarso. Certo, la tecnica si può migliorare, però non mi piace, non mi piace per niente, e non è migliorato in questi anni, quello lo posso affermare. Comunque, vabbè, cross di Benadeschi, molto bello dalla destra, Juve col 4-2-3-1, con l'esterno sinistro, veramente quello lì da vedere e rivedere, poi Kane con un bel colpo di testa, lì anticipa tutti, il portiere non esce, bravo lui, però poi, ripeto, se ne ha mangiato uno, grosso come una casa, su tiro di... Vabbè, quello lì non era facilissimo, su tiro di Bernardeschi, poi un altro tiro di Rabiot, mi pare. Sì, tiro di Rabiot, respinto malissimo dal portiere, lui lì, veramente, era solo da buttare in porta, e non ce l'ha fatta. Comunque, poi, per il resto, ho visto un Arthur che si è impegnato, nulla da dire, evidentemente, vuole farsi vedere dall'allenatore che può dare, ed è importante per la Juve Arthur. Sapete che io non sono un fan di Arthur, però in questa Juve qua, secondo me, forse, insieme a Locatelli, è il centrocampista con più qualità, è chiaro. Ho notato sempre un Alexandro in grossa involuzione, e un Morata, anche lui è entrato con voglia, eccetera, al posto di Dybala, però, boh, è ancora impreciso, ecco, non riesce ancora a sbloccarsi definitivamente. Comunque, Juve, tutto sommato, che ha avuto nettamente più occasioni, diciamo, non voglio dire dominato, però non ha mai, diciamo, la vittoria, non è mai stata in dubbio. Secondo me, in questo momento la Juventus deve imparare a sbagliare meno dal punto di vista tecnico là davanti, no, perché, per esempio, col Genoa e oggi hai creato tanto, bisogna tener conto del valore dell'avversario, ok? Però, nonostante crei tanto, fai ancora pochi gol, è chiaro, quindi bisogna migliorare. Adesso aspettiamo test più probanti per dire se la Juve sta crescendo o no, ok? Quindi questo è un po' il riassunto di tutto. Niente, ragazzi, iscrivetevi al canale, like, voglio sapere la vostra, bella.